Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Non perdete tempo, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Vladimir Luxuria si trova di fronte a un'altra sconfitta nell'edizione attuale dell'Isola dei Famosi, con un altro ritiro improvviso nel cast. Nonostante i suoi sforzi, il cambio di conduzione non ha portato i risultati sperati. Il pubblico sembra nostalgico di Ilari Blasi, la conduttrice precedente che ha sempre ottenuto un grande successo grazie al suo approccio fresco e diretto. Nonostante Vladimir, Sonia Bruganelli e Dario Maltese stiano facendo del loro meglio, il programma continua a deludere. Dopo il ritiro di Pietro Fanelli, anche Daniele Radini Tedeschi ha deciso di lasciare l'Isola, gettando ulteriormente nel caos il reality. Questo suscita domande sulla possibilità che il programma venga chiuso anticipatamente. Si tratta di un'amara delusione per Vladimir e potrebbe rappresentare un colpo per la sua carriera. Resta da vedere se l'arrivo di nuovi concorrenti potrà cambiare la situazione. Ma per ora l'edizione attuale sembra destinata a un triste declino, generando malcontento generale nel cast e tra i telespettatori.